Una mozzarella russa, un montepulciano svedese, una ricotta americana, caffè bulgaro chiamato mafiozzo e un liquore della cantina mafiosi. Sono solo alcuni dei prodotti contraffatti e spacciati per Made in Italy raccolti dalla Coldiretti Abruzzese per affrontare la delicata questione del giro d'affari sottratto ai produttori italiani. Il giro d'affari della contraffazione a livello mondiale è il doppio di quella del giro d'affari normale. Quindi sono circa 60 miliardi di euro di giro d'affari di contraffazione. Si calcola che due prodotti su tre mediamente siano contraffatti, quelli indicati come Made in Italy. Se noi riuscissimo paradossalmente soltanto a recuperare una posizione, quindi passare a due su tre di prodotti legali, il nostro prodotto, il Made in Italy, non basterebbe per soddisfare tutte quante le richieste che ci stanno nel mondo. Un problema che interessa l'Italia e le sue eccellenze è che non trova ancora una soluzione, nonostante l'esistenza di normative create ad hoc per fermarlo. Spiega il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, si tratta di lacune organizzative. Il nostro Paese dispone di strumenti molteplici, normativi, repressivi, giurisdizionali. C'è probabilmente da completare alcuni aspetti di questa regolazione, ma soprattutto c'è da coordinare questo lavoro. Molte eccellenze nel contrasto, non sufficiente coordinamento. Per parte nostra, l'Organo di Governo Autonomo della Magistratura, vogliamo favorire la specializzazione dei magistrati, un pool, un numero importante di magistrati italiani impegnati in questa battaglia fondamentale per il Paese. L'Italia è copiata e venduta sotto falso nome da tutti i Paesi esteri. Nessuno si salva la crisi morde e a questa si aggiunge la perdita di quote di mercato per i produttori e il relativo giro d'affari. Circa 4-5 anni fa sono stato in Australia, ho trovato in una catena di merce alimentare, ho trovato dei prodotti cinesi stampati con la bandiera italiana. Adesso non voglio, come al solito, luoghi comuni, la Cina, la Cina. Però è stato di fatto che in Oriente in particolare il marchio italiano viene contraffatto, così come viene contraffatto in Sud America, così come purtroppo anche nel mercato europeo.